buongiorno buona giornata a voi tutti bene questa mattina mi sono svegliato proprio alle sette in punto precise spaccate ovviamente stando qui a casa sbrigato proprio fino a poco fa i vari servizi ieri tornando un po appunto alla giornata di ieri mi sono goduto quasi un'oretta diciamo dalle 5 ore e 40 di crash of the titans famoso videogioco della playstation 2 di crash diciamo io indipendentemente se parliamo di un capitolo della playstation 1 della 2 o quello che vogliamo ma crash rimane uno dei videogiochi miei preferiti speriamo ovviamente oggi è venerdì essendo venerdì e giornate di friday night smackdown sarà l'ultimo atto pre pay per view ricordo appunto che money in the bank sarà questa domenica 10 maggio nella notte tra domenica e lunedì sul wwe network in lingua originale e credo anche in spagnolo almeno e in italia presumo al consueto canale di sky prima fila attraverso acquistabile attraverso un ticket con smackdown sicuramente avremo la sicurezza di riuscire a capire se ci sarà qualche altro match ufficializzato al momento se la mia se la memoria non mi inganna l'ultima volta che ho visto la card c'erano ben sei match comunque vi invito a tal proposito a seguire il video che farò penso già di riuscire a farlo domani per quanto riguarda i pronostici del pay per view devo andare a ricontrollare un attimo su wikipedia se a giugno ci sono c'è un pay per view perché ultima volta che controllai a giugno non c'era alcun pay per view ma mi sembra un po strano che altro dire oggi qui a trani come ieri bellissima giornata soleggiata oggi pomeriggio penso di farmi altri due passi come ieri oggi inizia il weekend il fine settimana della serie a bielorussia con due partite se non vado errato una alle 16 una alle 18 le altre tra sabato e domenica ovviamente come vi accennai ieri nell'ultimo video della giornata nel prossimo fine settimana ripartirà la bundesliga a meno di clamorosi imprevisti dall'ultimo minuto con se non mi sbaglio avevo letto si giocherà sabato domenica lunedì venerdì forse non faranno alcuna partita ma in quegli altri tre giorni si quindi io che sono un po un abbonato sky finalmente potrò ritornare a vedere un prodotto nuovo fresco quindi spero sicuramente che su sky sport 1 penso daranno almeno una partita al sabato una alla domenica e una domenica e poi controllerò durante in questo fine settimana la programmazione per la settimana prossima che altro dire mi accingo oggi a vedere un altro un altro blocco del video di crash of the titans comunque comunque beh sicuramente chi fa questi video è abbastanza professionale perché poi d'altronde un po dopo un paio di minuti che avevo iniziato a vederlo il video mi sono accorto che se non io magari il mio amico alessandro ci ha giocato a questo videogioco insomma non nascondiamoci la famosa il famoso sistema della modifica quindi dei giochi masterizzati sappiamo tutti che accompagnato appena la playstation 1 la playstation 2 poi diciamo che dalla playstation 3 tutto è cambiato solo giochi prettamente originali però magari è giusto anche così comunque io sono molto sicuro come credo chi è appassionato un po di videogame da chi è un po come me ogni tanto li viene il desiderio a chi invece su sette giorni magari ci gioca 3 4 8 la settimana videogiochi comunque console o videogiochi di console passate un po' di moda da come si dice le fanno pagare ed è giusto pure che sia così comunque io vi rimando ai miei canali social facebook youtube instagram e twitter devo dire la verità oggi ci sarebbe dovuto essere il deluxe show però mi sono convinto che già con le puntate fatte da me il mio caro compagno di avventura nicola zecchillo io almeno sono soddisfatto presumo anche il mio amico nicola quindi al momento penso di fermarmi con questo programmino con il mio amico poi magari vediamo a distanza di tempo di riprenderlo beh magari un discorso diverso per le recensioni che faccio sui show del wrestling però quello diciamo che è una cosa vabbè a parte fatta dove l'interlocutore sono soltanto io comunque diciamo sono appuntamenti fissi che e c'è comunque magari un un ampio raggio di dialogo seppur sia solo io a parlare quindi essendo venerdì oltre ad augurarvi buon proseguimento di buongiorno e buona giornata a tutti vi auguro vivamente di un buon fine settimana e speriamo che la settimana prossima chissà magari possiamo avere qualche altro piccolo allentamento delle restrizioni a causa di questo benedetto coronavirus covid 19 ah ieri passeggiandosi adesso mi sto ricordando me l'ha fatto notare l'amico alessandro trovammo noi qui a trani chi di trani vedrà questo video in una zona più o meno centrale della città trovammo una insomma uno dei primi metodi con cui si compravano i film attraverso le vhs proprio anni come si dice ai bei tempi di non mi ricordo l'attore comunque era una vhs beh io a dire la verità qui in casa ho ancora conserviamo abbastanza gelosamente il cimelio dal videoregistratore però sappiamo tutti i dispositivi di elettron ci sono si sono evoluti tantissimo anche se io comunque qui come vedete ho un lettore blu ray disc poi con ingresso anche dalla usb e poi a proposito di questa di questa grande possibilità che offre una porta usb come per esempio anche al televisore di collegare che ne so l'hard disk esterno quindi guardarsi un film qualcosa insomma poi vabbè sappiamo tutti per quanto riguarda i film seri insomma ormai le proposte ne abbiamo a bizzeffe netflix infiniti tv disney plus e quant'altro e vabbè io diciamo ho l'abbonamento a sky digitale terrestre che proprio ieri ho fatto la procedura per rinnovarlo con una scadenza febbraio 2021 e in più con la connessione internet wifi della telecom italia della team ho il team vision che diciamo ho preso più che altro un po' per dare un diversivo a mio padre e mia madre lì possono guardare c'è un po' di tutto film serie cartoni insomma comunque vabbè ho fatto il mio bial video anche questa mattina io vi ringrazio tutti ci vediamo quando prima viva la vita alla grande ciao a tutti buon proseguimento ciao ciao